questa mattina come tutte le mattine sono stato a messa ma per fortuna facendo le lodi mi ero già letto per conto mio il vangelo e avevo notato non me ne stupisco più ormai che era stato tagliato un versetto il vangelo di oggi è quello dei vignaioli omicidi quando il padre manda dei servi a prendere il raccolto di questa vigna e i vignaioli uccidono i servi e poi manda suo figlio e uccidono anche suo figlio e allora il vangelo continua dicendo ma allora che farà questo questo padrone gli risposero coi malvagi li farà morire miseramente darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli daranno il frutto a suo tempo poi prosegue e Gesù dice perciò io vi dico a voi sarà tolto il regno di dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti e bizzarramente cancellano il versetto 44 che dice chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato e poi invece prosegue la lettura del vangelo in chiesa udite queste parole i capi dei sacerdoti e farisei capirono che parlava di loro cercavano di catturarlo allora la mia domanda è ma perché la conferenza episcopale si permette di censurare il vangelo si permette di eliminare delle cose che gli paiono sconvenienti la pietra pietra d'angolo che stritola coloro sui quali cade che schiaccia o fa sfracellare quelli che vi inciampano che parole forti che parole brutte ma allora dovevano cancellare anche i versetti precedenti quando dice che ucciderà miseramente quei malvagi ma sapete ormai siamo abituati allo strabismo della conferenza episcopale italiana che a volte sì a volte no perché con questo criterio voi capite bene che questo stesso strabismo ce l'hanno che sono il padre nostro nelle preghiere del nuovo messale quando si pregano i santi ma non le sante però poi si dice fratelli e sorelle ma allora il maschile e il femminile sempre o non sempre ma qualche volta sì qualche volta no con un po di strabismo va bene allora con quale criterio quindi si permettono di censurare nostro signore ma io credo che questa sia un'operazione del tutto illecita perché perché probabilmente non hanno fede non hanno fede che la parola di dio sia veramente parola di dio quindi dobbiamo rispettarla amarla viverla ma io non la capisco se non la capisci obbedisci molto semplicemente perché dio sa quello che dice e quello che dice per il nostro bene e anche le parole forti si sfracellerà sulla pietra che nostro signore è una parola vera perché non possiamo noi addolcire talmente la parola di dio per cui tutti qualunque scelta facciano alla fine si salvano perché poi alla fine nella predicazione di questi di questi progressisti c'è questo questa misericordia buttata a pioggia su buoni sui cattivi su quella vuole su chi non la vuole la misericordia che diventa un obbligo che dio deve salvare tutti questa è un'eresia l'apocatastas di origine che è stata condannata in maniera definitiva nella santa chiesa è un'eresia non tutti si salvano l'inferno c'è l'inferno non è vuoto come qualche teologo che ha le panzane dentro al cervello si immagina l'inferno è pieno è pieno si continua a riempire innanzitutto dei demoni e poi della gente che muore fuori dalla grazia di dio è impenitente e noi sappiamo dalle rivelazioni private a una serie innumerevoli di santi che c'è il purgatorio che c'è l'inferno che le anime vi cadono allora è urgente l'evangelizzazione è urgente ritornare alla parola di dio quella autentica che ci mette in guardia nei confronti del pericolo per la nostra anima per l'anima dei nostri figli dei nostri nipoti dei nostri genitori dei nostri amici dei nostri nemici anche dobbiamo ritornare alla parola di dio così com'è ma non perché siamo protestanti perché non lo siamo ma perché proprio siamo cattolici e non alleggeriamo e non anacquiamo il vino buono della vita eterna del regno dei cieli